Non è poi così difficile. Basta vivere ricordando un numero al giorno. Sono 3034 giorni, 14 ore e 55 minuti che non esco da questa stanza. Non mi annoio. Viaggio attraverso il confine che separa la realtà dai sogni. Mi bastano pochi minuti. Guardo con insistenza un'immagine, un paesaggio, un oggetto. Poi chiudo gli occhi. Mi trastullo con i pensieri fino a raggiungere posti molto lontani. Lascio semplicemente che il buio prenda forma. Grazie.